Quest'oggi ragazzi andremo a fare qualcosa di veramente, veramente incredibile Challenge molto semplice, è una sfida più che challenge, non so come chiamarla Comunque ogni kill che andrò a fare su Fortnite devo andare su Omegle e trollare delle persone Per trollare le persone andrò a chiedere l'aiuto di Toxic che mi comanderà in cuffia e mi dirà cosa gli devo dire Quindi andiamo a fare subito la prima kill e spostiamoci poi su Omegle La cosa che non si può buildare raga io non la sopporto Ok eccolo, pam, pam, daga è bianco Oh, prima kill ragazzi, adesso andiamo, uccidiamo pure questo e andiamo su Omegle Cosa fa questo? Questo non ha armi e niente, nuova cosa No ragazzi, adesso basta, spostiamoci su Omegle e facciamo il primo prank Mi senti? Dove stai? Cosa? E da dove che vieni? Da dove vieni? Roma te? Pure io, pure io, ci possiamo incontrare così ci sculacciamo a vicenda Ma digli, quelle luci blu le fanno anche per i maschi Aspetta, fra che è ancora un attimo Ma quelle luci blu le fanno anche da maschi Digli che il microfono sembra una supposta, come i dirigibili su Fortnite Comunque il tuo microfono sembra tipo, sai quelli dirigibili di Fortnite che hanno una forma supposta? Sì, fra Però è bello, perché questo costa pure, so Beh, la faccio vedere allo specchio perché è molto la risposta Vabbè Sporco Ah, eh Mercato che io ho 18 schermi, infatti non so più dove guardarmi intorno Però È stato veramente un piacere, ti saluto e niente Bella, bella, bella Vai, io te conti, stai Su Vai parti tu conti Mi vale donne, mi vale donne Sono tutte belle Oddio 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 500 euro, mamma 500 euro 500 euro Oddio Oddio Raga Grande, fra, 500 euro I primi due troll sono stati bellissimi Ma il problema, ragazzi, è che mi sono appena accorto che mi stanno sparando Ok, lo vedo 80 L'ho ucciso Oddio No, ragazzi, e niente Oggi sarà una giornata piena di troll Andiamo a trollarne subito un altro Un'azienda che vende dei prodotti shampoo Per, ovviamente, capelli con porpora E senza porpora E, praticamente, quest'oggi cosa andrò a fare? Vogliamo sponsorizzarti un nostro prodotto Che è questo qua Prendete questo prodotto Tu te lo spacchi in testa E acquisisci una morbidezza nei capelli Veramente incredibile E te li fa perdere E te li fa ogni tanto anche perdere Però, però C'è anche un però Che se lo ordini entro 24 ore Ti facciamo lo sconto del 99% Quindi ti viene a costare solo 1.000 euro E assicuriamo che una volta che sei calvo Non ti rinascono più i capelli Una volta che sei calvo Non ti rinascano più i capelli Ma vale anche per i peli dei piedi Allora, per i peli dei piedi Già abbiamo la nostra soluzione Che è questo qua Che praticamente tu Anche per i peli dei culo E lo frusti Lo frusti Fino a fatti sangue Oddio, ragazzi Eccolo Eccolo un altro No, ragazzi Senza costruire è impossibile Bam No, ragazzi Questa vale doppio Solo perché l'ho picconato Questa vale doppio Scusate, ragazzi Ma su amico Mi sto veramente divertendo È stato un casino Torniamo su amico Ciao Ciao Allora Una cosa Io oggi sono tuo amico Per la prima volta in tutta la mia vita Ma io Io ho visto tanti ragazzi Ma come te Con il quale il cappello No No, non esistono Perché tu sei Secondo me sei speciale Hai un cappello bellissimo Hai un cappello bellissimo Cioè proprio Ma gli occhieri sono rossi o rosa Ma gli occhieri sono rossi o rosa Perché dalla luce non è che si vede proprio bene Sono rossi Rossi Marroni o un po' più chiari? Marroni Marroni Eh no, scusa perché forse è il mio pc che è un po' rotto Cioè alla fine ho speso solo 5.000 euro Quindi alla fine in teoria ci potrebbe Ma scusi Allora, veramente è un'organizzazione Perché noi stiamo vendendo dei prodotti Ho già chiesto per questo orologio Io sono il rappresentante di questa azienda Vabbè, diciamo che questo orologio Preso al mercatino Lo faccio a 500.000 euro Però Tu sei fortunato È il tuo giorno fortunato Lo riceverai 500 centesimi Lo vendo a 50 centesimi No, ma questo è un affare, cazzo Questo è veramente un affare È un affare, c'è Ti sto provo Però Ho anche un caricatore rotto Questo Te lo faccio pagare Sono 10 euro la spedizione Però è rotto No, raga Cioè Mi sto divertendo Devo ammettere Mi sto divertendo davvero tanto Se vi piacciono queste challenge Queste cose molto strane Che Contins si inventa Fatemelo sapere nei commenti E lasciate un like E iscrivetevi al canale Perché così mi fate capire Che quello che faccio vi piace Perché se no Smetto Vado Vado A non fare nulla Vabbè Ciao Dove sta la gente? Dove sta la gente? Devo andare a fare altri troll Eccolo Eccolo E non mi sembra tanto intelligente Anche se Toxic È un po' Un po' in fame Oh E niente ragazzi Oggi sarà un video solo su Omegle Praticamente Quindi lootiamo qua Un attimo E andiamo su Omegle Non Schippare Per favore Ti voglio solo far vedere una cosa Non c'è il trucco Non c'è inganno Ah Fai Cazzo allora Quanta qualità Quanta qualità In uno stesso uomo Aia mi sparano Aia mamma Nooo Ok ragazzi Come seconda sfida Proporerei un 1v1 Con un mio abbonato Bella Gisonni Mi senti? Si Mi sento Perfetto Allora Fai Poi Dovevo fare 1v1 Non voglio spoilerarti Ovviamente il video Comunque tu devi cercare Di vincere Quindi facciamo un 3 2 1 Let's go Oh Oddio Eeeh Dobbiamo stare calmi Ragazzi Dobbiamo stare molto Molto calmi Hittato Hittato Ragazzi Quello sapete Cosa andremo a fare Bam Ragazzi Ragazzi Il prossimo troll Ti voglio far vedere Una cosa Prima che schippi Ti prego uno schippare Perché se no Mi sento una persona Veramente Che fa schifo This is Water End La mia performance Questa è la prima Che te ne vai Cosa stai Di tutto rispetto Grande uomo Hai vinto tutto Hai vinto proprio Cioè Guarda Non ho una corona Qua vicino Ma chieda Isabetta Isabetta Se me la può prestare Tanto non si può inchinare Con lei Poi la rivendiamo E ci facciamo A metà Mamma mia Fra Ma pure un quarto Mi prendo Cioè vivo tutta la vita Ragazzi Se siete arrivati Alla fine del video Vuol dire che il video Vi è veramente piaciuto Ragazzi Noi ci siamo divertiti Veramente Veramente Mamma che bomba Veramente Assurdo Non pensavo Pochi insulti Ma veramente Tanta tanta gente Molto molto Simpatica Comunque ragazzi Io niente Vi è piaciuto questo video Ragazzi Mi raccomando Lasciate un like E iscrivetevi al canale Vi lascio anche il canale Di Toxic Che lo trovate qua In descrizione Mi raccomando È importantissimo Se volete nuovi video Su Meagle Spammatevi Valle donne in chat Posso dirlo Posso dirlo Una cosa Se questo video Dovesse arrivare A più di 40 like 45 50 like 60 Però vai 50 Andiamo su Meagle E rimorchiamo le donne Su Meagle Ragazzi Neanche vi saluto Sfida di rimorcio Ragazzi Ciao